Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Come prendere appunti a lezione utilizzando il metodo charting. Il charting method, che è il nome completo, è una tecnica che è particolarmente utile per, appunto, prendere appunti. Ed è basata su delle categorie già definite. Quindi, diversamente da come normalmente tendiamo a prendere appunti, quindi costruendo man mano lo schema, la mappa, in base a quale è la strategia che utilizziamo, sulla base delle informazioni che abbiamo appena ricevuto, letto, sentito, le riportiamo e costruiamo lo schema, costruiamo tutto quello che riguarda l'apparato per gli appunti, Nel caso specifico del charting method, invece, cerchiamo di partire da una base già strutturata, generale, quindi da qui charting, quindi il fatto che è un grafico, un diagramma, e poi man mano andiamo ad aggiungere le nuove informazioni. E questo è molto utile perché il ragionamento alla base è il seguente. Mettere le informazioni al posto giusto, invece che scrivere tutto di volta in volta. Quindi, in modo diverso rispetto ad altri metodi, in cui dobbiamo trascrivere per intero le informazioni, rappresentarle, cercando anche di spiegare a noi stessi, soprattutto per quando poi andremo a rileggerle, perché abbiamo scritto proprio quell'informazione lì, qual è il nesso logico, potremmo dire. Invece così sfruttiamo una struttura già definita in partenza. Quindi, andiamo alla sostanza, vediamo insieme come utilizzare questo metodo. Oggi ti faccio vedere la struttura in modo neutrale, cioè senza riferirmi a un contenuto specifico. Ci sarà tempo, e lo faremo nei prossimi giorni, di approfondire anche con degli esempi pratici, anche più di uno, in base anche a tipi diversi di materiale. Quindi, intanto oggi cerchiamo di capire come si sviluppa il metodo, quali sono le parti fondamentali, perché, sapendo questo, poi l'esempio pratico verrà molto più semplice da comprendere e di conseguenza potrai iniziare ad applicare sempre meglio questa tecnica. Ti faccio vedere il tutto in vari step. Partiamo dal primo step. Lo step in cui dobbiamo creare questa chart, quindi questo grafico, questo schema. Come vedi, ho utilizzato due linee verticali e una orizzontale. In questo caso, ho diviso il foglio in tre sezioni. Dove vedi il titolo, in questo caso in cui c'è scritto proprio primo step, eccetera, potresti, perché il fatto è che sia il primo step e non ti interessa, ma potresti invece mettere il titolo dell'argomento, o magari il titolo della lezione che stai seguendo, quello di cui devi prendere appunti. Quindi create le tre sezioni attraverso queste due barre. Come vedi, poi la barra orizzontale ci fa capire che c'è qualcosa che dobbiamo scrivere nella parte alta e poi riempire attraverso la parte in basso. Quindi la prima cosa da andare a costituire è questo. Io ti consiglio di partire con l'esempio che ti sto proponendo qui, quindi tre sezioni. Ma ti dico già da subito, e con i prossimi step lo capirai anche perché, puoi creare anche più sezioni in base alla complessità di quello che stai studiando, delle lezioni che stai seguendo, e quindi anche la complessità con la quale vuoi realizzare questo schema, sostanzialmente. Quindi questo è il primo step, crea la chart, questo è il punto di partenza, il grafico. Dopodiché, con il secondo step, definiamo i topics. Ecco perché ho scelto tre diverse sezioni, ecco qual è la valenza della linea orizzontale. In questo caso ho scelto tre argomenti, tre categorie in cui andare a posizionare poi tutti i concetti che esploreremo durante le lezioni, o la lezione allo specifico, o anche se stiamo studiando da un testo. Quindi nello specifico il primo topic che corrisponde alla prima sezione, quindi completamente a sinistra, il secondo topic al centro, e lo stesso vale per il terzo topic sulla destra. A questo punto, quello che rimane da completare è la parte bassa. Se avessi avuto un quarto topic, avrei fatto un'altra linea verticale, eccetera, eccetera. Quindi come vedi, è abbastanza semplice il ragionamento. Per questo all'inizio ti dicevo che potresti aggiungere anche altre sezioni. Questo è importante perché più selezionato è l'argomento, quindi è il topic, tanto più semplice sarà andare poi a posizionare le informazioni, le nuove informazioni che stai studiando. Quindi, fatto il secondo step, come per lo step precedente ti consiglio intanto di seguire il mio esempio, poi potrai tranquillamente, anzi ti invito a personalizzare poi lo schema successivamente, passiamo al terzo step. Il terzo step è quello in cui dobbiamo creare dei bullet points. Quindi questi bullet points, questi punti, potremmo dire, ci permettono di avere un'organizzazione anche delle sezioni più in basso. Perché? Come abbiamo detto all'inizio, il ragionamento è mettere le informazioni al proprio posto. E quindi non solo nel giusto topic, quindi nella giusta colonna, nella giusta sezione, ma anche in modo organizzato, quindi in modo pianificato, così da avere il tutto disposto in modo sequenziale. Quindi quello che vale per il primo topic sarà un tipo di organizzazione uguale al secondo topic, ma con concetti che sono diversi. E quindi questo puoi farlo in questo modo. Io l'ho realizzato con dei pallini. Tu puoi mettere un più, puoi mettere una linetta, una freccia, quello che ti piace, quello che preferisci. La cosa importante è avere un'organizzazione sequenziale proprio in questa parte. Quindi questo è il terzo step. E poi andiamo e concludiamo con il quarto step, in cui riempiamo la chart. Quindi questo è il momento in cui stiamo realmente prendendo appunti. Ora, ti voglio fare notare una cosa in particolare. Partiamo dal primo concetto, il concetto A, che si trova nel primo topic, nel primo pallino, quindi nel primo punto. Il concetto A è il primo e lo andiamo a posizionare lì. Il secondo concetto, quindi il concetto B, è sotto il concetto A. Infatti lo trovi sempre nel primo topic. Però durante una spiegazione o durante la fase di apprendimento, quando studiamo qualche forma di materiale, non tutti i concetti sono naturalmente messi in ordine. E quindi il terzo concetto, cioè il concetto B, come vedi, si sposta nel secondo topic. Questa è la forza di questo schema, di questo modo di prendere appunti. La possibilità di organizzare, pianificare rapidamente le informazioni. E quindi questo ragionamento, come vedi, lo possiamo applicare perché il quarto concetto, quindi il concetto D, si trova nel terzo topic. Quindi si sposta nuovamente. Quello successivo, il concetto è ritorna nel primo topic. Quindi questo potrebbe essere un andare a saltare, cercare di capire in quale argomento devo andare a posizionare il concetto. E anche se all'inizio può sembrarti un po' una fonte di confusione, in realtà è proprio qui la forza di questo metodo, perché se mentre lo realizzi devi fare particolare attenzione, appena completi questa chart, avrai tutto ben organizzato, ben disposto. E quindi quando, per esempio, vuoi andare a ripetere il materiale, parti tranquillamente dal primo topic e ti fai la scaletta con solo quei concetti che rappresentano il contenuto di questo topic. Questo vale la stessa cosa per il secondo, per il terzo, il quarto e quanti ne vuoi creare. E come ti dicevo all'inizio, migliore è l'argomento che scegli, quindi migliore è la strutturazione che dai allo schema, tanto più facile sarà non solo organizzare le informazioni, ma di conseguenza anche riuscire a ripeterla, a ripassarla. Quindi non partire dal presupposto che sia subito, immediato, facilissimo riuscire ad applicare questo metodo. Però, come vedi, ti dà tantissimi vantaggi rispetto ad altri che sono meno strutturati, quindi più liberi e quindi possono creare un po' di confusione. Quindi, il video di oggi era basato proprio su questo, sul farti conoscere questa metodologia per prendere appunti. Come vedi, appena puoi farlo rapidissimamente, se sai ormai come crearlo. Nei video successivi vedremo come realizzare nell'atto pratico, non solo in modo neutrale, parlando quindi di concetti in generale, di topic in generale, ma con strutture vere e proprie, quindi con esempi pratici di materiale, come facciamo di solito, quindi con gli esempi spiegati in diretta. Quindi, il video di oggi finisce qui. Ti ringrazio, come sempre, per l'attenzione che mi hai dedicato. Se ti va, soprattutto se può essere di aiuto, ti invito ad iscriverti al canale e in ogni caso, con tantissimo piacere, ti aspetto nel video che uscirà domani.